Proffi a sporcarvi le mani di sacco! Sto ricaricando! Abbiamo appiccato il primo incendio! Sono a uno dei nostri depositi ricordamenti! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Abbiamo appiccato un incendio! Presto! Pensa all'altro! L'incendio si è spento! Sbrigatevi a riaccenderlo! Abbiamo incendiato un deposito dei ribelli! Bruciamo un deposito dei fornimenti dei ribelli! Sto ricaricando un deposito dei ribelli! Sto ricaricando un deposito dei ribelli! L'incendio si è spento! Fate qualcosa! È all'asfalta! Bruciamo un deposito dei fornimenti dei ribelli! Stanno dando fuoco a un deposito dei fornimenti! Abbiamo appiccato un incendio! Presto! Pensa all'altro! Hanno incendiato un deposito! Dovete difendere l'altro! Cerchiamo di appiccare un altro incendio! Muovete! Senza dubbio! I ribelli hanno mandato degli esploratori! Il rogo è appiccato! Prendete la radio e difendetevi! Non ci è spento! Stavolta teneteli alla larga! Ricarico! Gattu! Segnale captato! Riduciamo incendere questo lenta mai! Ricarico! Stanno cercando di prendere la radio! Stanno rubando la radio! Quei ribelli di merda hanno preso la radio! Il loro rogo è andato! Dobbiamo accenderne un altro! Sto ricaricato! 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 Un deposito dei ribelli. Cercano di bruciare la nostra roba. Bruciamo un deposito di fornimenti dei ribelli. Il primo incendio ha preso. Afficca il secondo. Barili pronti a volare. Stanno dando fuoco a un deposito di fornimenti. Afficchiamo il fuoco al secondo deposito. Hanno preso un deposito di fornimenti. Dobbiamo difendere il secondo. Stanno andando all'altro. È un rogo. Prendete la radio e difendetela finché non c'è segnale. L'incendio dei ribelli si è spetto. C'è l'altro! Ha! Ricarico! Ecco il segnale, gente. Ora chiamate il supporto e fate scopere fuoco. Conquistiamo la radio. Sto ricaricando! Ritorno a combattere! Benzina in arrivo! Bel lavoro! Gli abbiamo spaccato il culo! Guarda qui! Della birra pulita! Credo! Sì! Quelle sono pulite al cento per cento. Ehi! Slegalo, dai! Forza! Non fare il timido. Entra e slegalo! Ehi! Ti sei fatto battere da una puttana tailandese in tacchi a spillo. Ma comunque è stata una bella partita. Sì! 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 Grazie.